Siamo con Rebecca Pazler in occasione di Modena Ski Pass, allora Rebecca, tanto come sta procedendo la preparazione estiva? Immagino che Mirko vi stia facendo faticare tanto, Mirko Romanin. Sì, è duro il lavoro, ma tutte le state abbiamo lavorato tanto e so già adesso che mi sto migliorando tanto. Sì, vediamo com'è. C'è qualcosa in particolare su cui stai lavorando, dove vuoi migliorare nella prossima stagione? Sì, quest'anno ho cambiato quasi tutto il fucile, abbiamo provato tutto nuovo e mi sto migliorando molto a terra, in piedi sono sicura e sulle sci stiamo facendo molta tecnica con Mirko e vedo anche la differenza un po'. Insomma, stai sfruttando quelli che possono essere i tuoi margini di miglioramento o volevo chiederti se ti sei già posto un obiettivo stagionale? Sì, volevo, un obiettivo è di andare ai mondiali e sì, se no mi auguro una buona ragione, no? È una squadra molto competitiva la vostra, volevo chiederti anche i nuovi elementi, cosa hanno portato nel gruppo i nuovi arrivati? Conoscevo già i nuovi arrolati nella squadra e mi trovo bene con loro.